Con l'arrivo delle festività natalizie, i tradizionali mercatini riempiono di musica e colori le piazze e le vie di molti centri della provincia di Roma. A Monterotondo, ad esempio, è in corso Villaggio di Natale, passeggiando a Monterotondo, iniziativa presente fino al 6 gennaio 2013. Ce n'è per tutti i gusti. Chi ama il cibo non può farsi scappare gli espositori di prodotti tipici, mentre per i tanti bambini capricciosi ci sono caramelle e giocattoli. Passeggiare e chiacchierare tra le luci e i colori del villaggio natalizio è un modo gradevole di trascorrere il proprio tempo libero. Per chi abita a Monterotondo, ma anche per chi arriva da fuori. L'atmosfera natalizia tra le bancarelle si tinge quest'anno di colori speciali, gare e concorsi a cui partecipare, ma anche raccolte di solidarietà, per non dimenticare chi vive in condizioni disagiate. E' Natale, Monterotondo si illumina.